si alzarono tutti e due lei soccorso subito da una signora John invece si alzò da solo ferito più nell'anima che nel corpo la signora prese la ragazza con sé e la portò a una fontanella lì vicino per poterle bagnare la ferita molto lieve per fortuna John era paralizzato dall'imbarazzo qualche passante si era fermato a vedere la scena qualcuno rideva altri invece erano disgustati John vide che la ragazza ringraziava la signora che l'aveva soccorsa una signora anziana molto gentile che faceva ogni azione con un sorriso sul viso sicuramente la sua generazione ne deve aver visto di peggio di situazioni una semplice ferita sul labbro non è niente la ragazza si sedette sulla panchina a fianco della fontanella con un fazzoletto premuto sul labbro mentre salutava e ringraziava la signora anziana che sorridendo si allontanò John doveva andare da lei anche solo per chiederle scusa cominciò a fare qualche passo in direzione di lei per poi bloccarsi allo sguardo della ragazza che con quegli occhi stava dicendo non ti avvicinare sono arrabbiata John era a distanza di un paio di metri e da lì guardandola le disse scusa non volevo non l'ho fatto apposta il cuore li batteva a mille la ragazza lo guardò socchiuse gli occhi e disse come? accidenti non aveva sentito allora John si avvicinò ancora di un metro e ripete la frase scusa non volevo non l'ho fatto apposta la ragazza si tolse il fazzoletto dal labbro lo guardò in cagnesco John era paralizzato poi a un certo punto lei gli disse vabbè succede e ritornò a tamponarsi il labbro guardando per terra quasi come se fosse in trans John a questo punto decise di fare una cosa che mai si sarebbe sognato di fare in vita sua prese coraggio come un cavaliere prima della carica contro il nemico sollevò la mano dal fianco la porse verso di lei e disse comunque piacere mi chiamo John il cuore batteva così forte che sembrava ci fosse un concerto di tamburi nella sua cassa toracica la ragazza lo guardava stranita guardò con attenzione la mano poi lui anche lei porse la mano piacere Ginette è francese ma non sono francese Ginette che bel nome pensò John grazie a tutti la visione